Siamo al supplemento della campagna 5 con sconti fino all'80%, ovviamente partono dal 50%, linea a casa, ovviamente queste sapete che sono fine esaurimento scorta, a richiesta passiamo anche al catalogo 6 con come potete vedere in copertina di un nuovo mili sossatta, questa volta c'è la novità sulle 30 tonalità degli smalti e dove possiamo trovarne due scelte a 4,90, queste sono le tonalità, questi sono tutti i colori, poi abbiamo anche qua 4,90, abbiamo la novità per quanto riguarda il mini smalto per unghie Mark 2,95, il top coat 4,90, potete scegliere le 2,4,90, offerte 2,8,90 per quanto riguarda la linea labbra, 2,9,90 in mascara, le matite 2,6,90, 2,10,90 ombretti e gli ombretti in stick, 2,14,90, anche qua troviamo di nuovo gli accessori 2,4,90, e poi linea Mark offerta a prezzo normale, qua troviamo spendendo 15 euro da catalogo quindi per ogni prodotto acquistato, scusate per ogni 15 euro acquistati, 16,95 le de parfum della Today, quindi qualsiasi cosa da catalogo, qui abbiamo le offerte per quanto riguarda i set, sia da uomo che da donna, il black sweat, possiamo scegliere 2 o 3, pur blanca, avon classic, celebre, black sweat, viva la vita, avon alfa, sia per lui che per lei, avon lux sia per lui che per lei, poi qua abbiamo la linea New, anche qui da 2 o da 3, per ogni prodotto acquistato potrebbe averne un altro 60% di sconto, da pagina 40 a pagina 43, quindi da pagina 40, quindi questa, fino a pagina 43, quindi fino a qua, sempre per quanto riguarda la linea New Clinical, qui troviamo la novità, il detergente tutto in uno Nutra Effect, questo a 5,95, questo a 5,95, qua per ogni prodotto Nutra Effect acquistato da pagina 44 a pagina 51, si può avere una BB cream a 2,95 invece di 7,95, qui abbiamo la novità per quanto riguarda la Nutra Effect, la crema idratante da giorno con protezione 15, i semi di, semi di, di Kia, scusate che non si vede bene, l'Agelless di nuovo, con semi di Quinoa, queste le conoscete già, due scelte a 7,90 per quanto riguarda l'eyeliner, e qui troviamo le nuove tonalità, per ogni prodotto acquistato da pagina 54 a 69, si può avere questo fondo tinta cremoso, finitura in polvere Avon True a 6,95, in queste colorazioni qui, è un 3 in 1, quindi fa da correttore e fondo tinta cipria, una lunga tenuta, qui troviamo i set già coordinati con rossetto e matita 9,90, se volete il set, se no pagate il rossetto 6,50 e la matita 4,95, questo colore è stupendo, rossetti, rossetti, fondotinta, accessori, linea mark, qui troviamo il fondotinta liquido opacizzante con protezione 15, a 8,95, i correttori che sono novità della 5, le hanno messi anche in 6, sempre a 5,95, della color trend, qua a partire da 2,50 per quanto riguarda il make up money, make up da 2,95 rossetti, 2,95 fondo tinta, eyeliner, mascara, matita, 3,95, le spugnette, le cipre, il mascaro, le matite, le liner, linea new clinical, a new beauty scusate, per quanto riguarda la lux, qua abbiamo una novità, che è un fondotinta 2 in 1 effetto cashmere, con protezione 15, delle lux 12,95, in queste 5 colorazioni, fa da primer e da fondotinta insieme, qui troviamo a partire da 14,95 le fragranze da uomo, Premier Luxe Mesmerite Black a 14,95, il TTA a 19,95, qua a partire da 10,50, a partire da 6,95 troviamo anche qua la novità per quanto riguarda l'individual blue unlimited, a 2,50 troviamo a partire da 2,50 troviamo sempre i saponi liquidi, quindi da uomo, i prodotti per la barba, per quanto riguarda l'Avon Plus, 3 prodotti a 33,95 troviamo 2 Avon Femme Icon, e un Avon Home, qui troviamo i Shet Essence Lime Verbena Passion Fruit e Wild Puppi, 2,11,90, 3,15,90, sono delle novità questi due, qui a partire da 5,95 troviamo l'offerta di Benvenuto Estate, Profumi, Farway Gold, con in omaggio un campioncino del siero correttore nude, sempre la stessa cosa, Profumi con un campioncino in omaggio, Farway, qua hanno cambiato solo il packaging come avete visto in C5, qua ritroviamo di nuovo le versioni in borsetta, da 30 ml incandescent per save, a 6,95 l'uno, le creme corpo, i nuovi packaging per quanto riguarda il Farway, novità per quanto riguarda i reggisegni, ne troviamo 2,19,95, gli slip 2,99,5, anche qui novità sottoveste 19,95 set da 2, altra novità le pantoffole pieghevoli 10,95, abbiamo il set di 2 maxi taglie da notte 22,95, altra novità il pigiama 16,95, altra novità questo fantastico pigiama simpaticissimo e le pantoffole anche in coordinato volendo, con le ciglia, 19,95 il pigiama e il 9,95 le pantoffole, novità ancora la tutta intera, Giulia verde, verde, altra novità per quanto riguarda i reggiseno, questo qui, la 17,95 con in coordinato la mutandina, altra novità sempre sui reggiseni, questo che potete metterlo in sei modi diversi, 12,95, bianco, nero e nude, altra novità, questo che si apre davanti, 12,95, solo bianco, qui abbiamo jeans vestito 25,95, quindi possiamo scegliere il jeans che è questo qui, il vestito che è questo qui, qua troviamo il set da due maglie a 19,95, il set da due leggings a 19,95, la borsa, la novità per quanto riguarda le ciabatte, 17,95, il set di orecchini, il set da 14 a 8,95, il set da 5 a 8,95, anche qua ci prepariamo all'estate, troviamo le novità per quanto riguarda i costumi, il reggisenno bikini 12,95, la mutandina 10,95, anche qua 12,95, 10,95, con una novità per quanto riguarda l'ombelico, a 3,95 troviamo questo bijou da ombelico, poi un altro fantastico costume da bagno con incoordinato il caftano, a 26,95 il costume, il caftano a 21,95, il vestito festival che avete già visto, che ho preso io, 24,95, la borsa, 12,95, il bracciale, a 8,95, anche qua troviamo la novità per quanto riguarda la casacca, il top 12,95, la novità per quanto riguarda i sandali, 19,95, i leggings bianchi, anche qua un'altra novità, molto bello questo vestito da fare in coordinato con la borsetta, a 24,95, la borsetta a 12,95, l'infradito e il cerchetto con la treccina, anche qui abbiamo un altro vestito sull'animalier, 19,95, devo dire che è molto bello, novità la sciarpa, da, da,